Domenica difesa del Primato per la Vastese. Dopo il blitz di Matelica, l'undici di Geluca Colavitto ospite il campo basso. Partita di cartello contro i moliseni che hanno ritrovato la vittoria domenica scorsa e arriveranno all'Aragona desiderosi di sgambettare la prima della classe. Colavitto non dovrebbe modificare l'undici vittorioso di domenica scorsa. Difficile il recupero di Allocca, si va verso la conferma di Bartoli. In avanti Felici e Fiore, pronti a innescare il capocannoniere Prisco. Il tecnico molisano Novelli col dubbio D'Angelo e va verso la conferma della squadra di domenica scorsa. Settimana di rinforzi per le ultime due della classe Pineto e Chieti. La squadra adriatica, dopo il quarto stop consecutivo, ha esonerato l'allenatore a mazza d'orso e si è affidata alla guida tecnica dello specialista delle salvezze Daniela Maulo, profondo conoscitore del girone. Ieri poi il tesseramento del difensore ex Chieti e San Nicolo Alessandro Rapino. La prima di Amaulo domani a Castelfidardo in quello che può già definirsi un confronto in chiave salvezza. Il Chieti invece in settimana ha tesserato l'attaccante Francesco Faccini, ex vastese, e il centrocampista Nicola Botticini, ex San Benedettese. Domani il match ancora più difficile del solito con l'arrivo della corazzata materica affamata di punti e reduce dal cambio di allenatore a risollevare le sorti dei marchigiani è stato chiamato Antonio Mecomonaco che debutterà proprio nella sua Chieti. Il senicolo invece deve sfattare il tabù Bonolis e proverà a farlo domani ospitando il Romagna Centro, una delle squadre più giovani dell'intero raggruppamento F. Nel girone G l'Aquila è chiamata a dare continuità alla vittoria sul Lanusei. Ancora indisponibili Salvetti e Bonvissuto, il tecnico Morge dovrebbe confermare la formazione di sei giorni fa. Intanto sulla società ripiomba il fardello dell'inchiesta Dirti Soccer. Al termine dell'udienza per la terza tranche la procura ha chiesto cinque punti di penalizzazione e un'ammenda di 50 mila euro per le responsabilità dell'ex dirigente Ercole Di Nicola. La difesa punta al proscioglimento poiché quasi tutte le partite vagliate sono successive alla data delle dimissioni dello stesso Di Nicola. L'Avezzano spera di liberarsi dell'allergia delle sarde cercando di fare risultato al demarsi contro il latte dolce Sassari per l'occasione lanciata l'iniziativa del biglietto di curva a 2 euro per ragazzi dai 12 ai 17 anni.